Ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video Oggi People From Ibiza è il primo maggio Nel senso io sto registrando sto video il primo maggio Ma è festa, sta diluviando fuori Mi sono messo un attimo a sistemare l'armadio, un po' la camera E soprattutto gli ultimi acquisti che vi ho fatto vedere ieri Che ho fatto al Serravalle insieme a Mark Vi stavo mettendo a posto quando mi sono detto OMG ma da quanto tempo è che io non faccio un video Comprati e mai usati tutti i prodotti di lusso di cui mi sono pentito Acquisto? Non lo so È da qualche mese, addirittura forse un anno E quindi ho racimolato un po' di robine Che veramente, probabilmente vi ho già fatto vedere Anticamente in questi schermi Però magari gli volevo dare una seconda chance Quando ve li ho mostrati vi avevo detto Eh ma mi impegnerò, me li metterò Guarderò di usarli Ma se sono arrivati in questo video Probabilmente questo piano non ha funzionato Ma non vi preoccupate perché ho in mente anche di fare Magari domani, ve lo pubblicherò Il video contrario Cosa che non ho mai fatto Perché noi ci concentriamo sempre sullo sprecare i soldi Sul comprare cose che poi non usiamo Sul comprare cose e poi ci siamo pentiti di averle omprate Ma mai ci soffermiamo sul fatto Io ho comprato, ho speso tantissimi soldi Per questo o per quest'altro E ho fatto bene, col senno di poi Perché lo sto usando tantissimo L'ho usato tantissimo Lo sto continuando ad usare E quindi un po' per cambiare Ditemi voi se lo volete subito domani Qua sotto tramite commento ovviamente potete scriverlo E così io vi pubblicherò anche l'esatto contrario E quindi tutti gli items Tutte le cose che ho comprato Di cui vado super fiero Perché li sto usando Perché li ho usati Ma veniamo a noi Lasciate mi piace a questo video Mi raccomando per pietà Allora Inizio con gli occhiali da sole Allora questi qua io vi devo dire Non sono stati un acquisto Sono stati un regalo di compleanno Tra le altre cose super voluto da me Perché effettivamente questi occhiali da sole di Prada Sono bellissimi Io li amo E infatti li ho messi qua Semplicemente per un problema logistico Che ora vi andrò a raccontare Gli occhiali sono fatti così Sono normalissimi Sono un po' rettangolarini così Il modello è Non lo so Questo Ok È questo qua Fate lo screenshot se vi piace E come ben potete vedere Comunque Oh Mi stanno abbastanza bene Guarda mi sono illuminato d'immenso La cosa che Non me li fa mettere È il fatto che sono strettissimi Nel senso vedete Così non mi entrano Io li devo allargare un po' E poi me li metto E sono super pesanti Quindi dopo un'oretta che io li indosso Mi fa male qua all'orecchio E quindi a lungo andare Io ho sempre optato per altri occhiali Rispetto a questi alla fine Perché sapevo già che mi avrebbe fatto male l'orecchio E quindi in poche parole Non li ho più usati Li ho messi un po' di tempo fa Ma ho sempre optato per questi occhiali Quando sapevo che Li dovevo mettere per pochissimo Ma poi mi sono comprato Quelli nuovi di Saint Laurent E quindi adesso metto sempre quelli È un peccato Sì perché quanto costano questi occhiali 300 euro su per giù Sono super belli Perché io ripeto Li ho voluti fortemente Mi piacciono tantissimo Anche come mi stanno Però purtroppo Mi stringe qua E poi mi fa far male la testa E quindi per quello Sono finiti Purtroppo In questi comprati E mai usati Continuiamo subito Veloce Perché di cose Da farvele vedere Ce n'ho tante Iniziamo adesso Con Gucci E più precisamente Gucci per Valenziaga Io questa pashmina Ve l'ho fatta vedere Mille volte Ok Molto probabilmente Sarà finita mille volte In comprati E mai usati E tutte le volte Dico Vabbè dai Magari Gli darò una seconda vita Una terza vita Vedete È fatta così È made in Italy Ma come ben potete vedere Ha ancora il cartellino Perché questa Veramente Io non l'ho Mai 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 Indossata E penso che Non la indosserò Mai 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 Ma per quali motivi Allora io d'inverno Raga Mi metto le sciarpe Perché ho freddo al collo Questa qua Vedete che è fatta così Un po' In setina È super leggerina È fatta più per Una primavera Un'estate Un po' Fresca Ecco Io quando c'è un po' caldo Le sciarpe Un me le metto più E quindi Alla fine Questa sciarpa Questa Pashmina È rimasta Per sempre Qua dentro E vi devo dire Anche la verità In realtà Mi dà noia Il fatto Che ci sia Questi loghi Così Prorompenti Così Grandi Non lo so Allora io sono un amante Dei loghi Lo sapete Ma ultimamente Sono alla ricerca Anche di cose Un po' più Anonime E quindi questa È volata lì A proposito di Gucci per Valenziaga Abbiamo anche Questa E qui E qui mi piange Il cuore Perché io Amo Questa roba Amo Questa Borzettina Possiamo dire Questa micro bag Che in realtà È un borsello Con catena Lo amo Perché mi piace La catena d'oro Così Mi piace La fattezza Mi piace Che lo posso mettere Così Ma lo posso mettere Anche tipo A tracollina In questo modo Il fatto raga E che come vi ho detto Anche l'ultima volta Che ve l'ho mostrata E non l'ho mai usata Nel senso Io ve la faccio vedere Che tra le altre cose C'è C'entra tutto C'è il coso Lo scomparto Per I contanti C'è lo scomparto Per Le monete Solo che Raga Non la metto Ok Perché Io adesso Ultimamente Sono più propenso Per le borse Enormi Per le tote bag E Quando invece Devo mettermi Una borsa Un po' più piccola Non vado a scegliere questo Perché Qui Non c'entra niente A parte qualche soldo E quindi Mi sembra una cosa inutile Perché poi Dovrei prendermi Anche una borsa Perché sennò Le chiavi Il cellulare I fazzoletti Le chewing gum E tutto il resto Ma dove lo metto Che qui Non c'entra niente Però Peccato Poteva essere Un accessorio Così No Quando sei vestito E la borsa Non te ne fai di niente Però Raga Dico sempre Sì 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 La uso La rimetto dentro la scatola E non la uso E quindi Mi dispiace Ma anche questo È andata Di diritto Nei comprati E mai usati Ma Non mi sono pentito Perché obiettivamente Io la amo È bellissima Veniamo Veniamo raga Con Gucci Con questa Io ve l'avevo detto Questo era uno dei miei autoregali di Natale Arrivato all'inizio dell'anno No Ha passato un mese Vi avevo detto in un vlog Che non l'avevo mai mai usata Ma che avevo intenzione di usarla Arrivati ormai a maggio Siamo quasi a metà anno Io vi posso dire Che questa meraviglia Non l'ho mai 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 Usata Infatti Non c'è niente Ci sono tutti I fogliettini C'è l'etichetta Ma non l'ho mai usata Non so per quale motivo Ah c'è ancora l'aggeggio qua Oddio Allora Il motivo lo so Ok Io la amo Questa borsa Questa borsa l'ho pagata Tra l'altro 850 euro Mi sembra Insomma Meno di 1000 euro Quindi Secondo me Era un super affare Mi è piaciuta Tantissimo Mi piace tantissimo Anche ora che la vedo No Dico Oddio Me la devo mettere È super bella L'unica cosa È che Non so Come abbinarla Ragazzi Vi ricordate Che io l'avevo comprata blu In questo modo Perché avevo detto Non ho neanche una borsa blu E così Quando mi vesto di blu Mi posso Abbinare questa borsa Perché le ho tutte Un marroni O nere E che due marroni E quindi Ho voluto fortemente Questa Perché era diversa Se non avevo neanche una borsa blu Un motivo Un motivo c'era ragazzi Perché io A parte oggi Non so per quale motivo Ma è un caso Non mi vesto mai di blu Per uscire di casa Sono sempre vestito di nero Sono sempre vestito di grigio Sono sempre vestito di bianco Sono sempre vestito di beige Il blu Mai contemplato Però Nonostante questo Io Vi devo dire L'amo Mi piace tantissimo Oh è nova eh Mai usata Mai uscita dalla dust bag A parte quando ci sono i video così In cui ve la faccio vedere Non la riesco a mettere E abbinare con niente Per colpa Della tracolla Ragazzi Perché c'è questa tracolla Che è molto Tamarra Ok Se la tracolla fosse stata Magari tutta di pelle così Blu scura Probabilmente L'avrei usata Qualche volta Ma per il momento No Non mi è riuscito A mettermi nulla Anche quando sono un po' più Sporty Un po' più Casual Io vado Con tutto Con tutto il bene Che posso avere Per questa borsa Me la provo Mi guardo allo specchio E poi dico No È troppo E quindi poi me la tolgo E me la rimetto Nell'armadio Però Io la amo Mi piace tantissimo Ma Ripeto Se anche la tracolla Fosse stata di pelle Così Sarebbe stata Molto meglio E soprattutto Secondo me L'avrei usata Un minimo Nonostante questo Ok È un comprato Questo veramente Mai 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 usato Perché questa Borsa Ripeto Non è mai uscita Da camera mia Praticamente Boh Allora Mi devo Concentrare Perché Devo scegliere O Ok Va benissimo Non la indosso Ho capito Che non la indosso E quindi La tengo Nella mia dustbag La tengo Bene 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 Per tot anni Fino a quando Sperando Appunto Che aumenti di prezzo Boh Tra dieci anni Sarà comunque nuova La mia Perché non l'ho mai usata E Costerà nel frattempo Boh 1500 euro E quindi io Avendola Comprata A 850 Boh A 1000 La potrò vendere C'è da vedere poi Se fra dieci anni La gente La vorrà questa C'è da vedere poi Se tra dieci anni Ci sarà ancora Questa borsa C'è da sapere poi Se tra dieci anni Il prezzo Sarà aumentato C'è da vedere poi Se tra dieci anni Io ci sarò ancora Ovviamente Però Nonostante questo Raga Non si compra le borse Come investimento Perché l'unico investimento Ho capito Che è La Birkin Di Hermes E magari qualche Chanel Vediamo Però Ho sempre nella mente Il desiderio Di utilizzarla Quindi Mi impegnerò Entro la fine Del 2024 E spero Di mettermela Almeno una volta Anche perché Se no Ho sprecato sordi Inutilmente In questo caso Super inutilmente Come per la Pashmira Perché Non l'ho mai Mai Messa Detto questo Vedremo Con il prossimo Comprato E mai usato Magari Spero Di dicembre Se ritornerà Ancora In questi schermi Ma Passiamo adesso A Balenciaga Perché Vi faccio vedere Un paio di scarpe Che Ho comprato Fortuna Con i saldi Un po' Di tempo Fa Li ho usate Due volte Devo dire Sì Perché sono Nuove Praticamente E poi Non li ho più usate E sono Queste qua Allora Perché Ho comprato Queste scarpe Perché Erano Molto sportive E ci potevo andare A camminare Ci potevo andare A fare sport Il problema È che io Non vado A camminare Più E non faccio Sport Più E quindi Ho detto Vabbè Me le metterò Quando Ho la tuta Secondo voi Le ho mai messe? No Mai messe Ma non so Come mai Perché comunque Sono super super Comode Nonostante Siano Anche Un po' Bruttine Però Queste Ora Ve le ho volute Mostrare Perché A proposito Di Me le voglio Rimettere Quando sono Vestito Intuta Le avevo Ritirate fuori L'altra settimana Quando dovevo Uscire Ed ero Intuta Ho detto Vabbè Dai Riprendiamo Quelle scarpe Perché Se no Vedete Sono quasi Nuove Non le metto Mai Me le son Messe Mi son Guardato Allo specchio E ho detto No Vabbè Usiamo Un altro Paio E quindi Anche queste Comprate E in questo Caso Messe Due Volte Ma Sempre In questo Caso Fortuna Che le avevo Comprate Con dei Megasconti Le avevo Pagate 300 euro 290 Qualcosa del genere Ma ne costava 600 E quindi Vabbè La perdita C'è Ma non Chissà Che cosa Adesso Raga Io vorrei Finire Con Delle Borse Perché Le borse Che vi sto Per far vedere Sono borse Che ho voluto Fortemente Anche In questo Caso Sono borse Che Ho usato Qualche Volta Ma Di due Mi sono pentito Di averle comprate Di una No Infatti Ve la lascerò Per ultimo Per ultima La primissima È questa qua Ragazzi The Toad Bag Marc Jacobs Allora La storia Di questa borsa È molto carina E qui Vedete io Quanto sono Dedito Al lavoro Nel farvi video Io questa borsa Che Tra le altre cose Adesso c'è anche Al contrario Aspettate Ok Io Questa borsa L'ho voluta Fortemente Perché Influenzatissimo Da tutti i video Che vedevo Su TikTok Perché questa L'anno scorso Era una borsa Che era super Super Vitale Quindi Volevo Andarla A comprare Esattamente Di questo colore Ma In realtà La volevo Anche In pelle Nera O marrone Ma non c'era E quindi Ho preso Questa Modello Medio Mi sembra Ma semplicemente Perché io Influenzato Dalle influencer Che dicevano La borsa Heatbag Dell'anno No Così Non costava Neanche particolarmente Tanto Ho detto Sapete cosa Una tote Io Mi piacciono Le tote Andiamola A comprare Io ci faccio Anche il video Ho comprato La borsa Più virale Del momento Era questa qua Ecco Vi devo dire A distanza Di un anno Supergiù Che l'ho comprata L'ho messa Esattamente Una volta E non vi so Dire precisamente Il perché Perché comunque Ha anche La sua Tracolla Quindi è molto Utile Ha i manici Come lo uso io Soprattutto Ha anche La sua Zip Che chiude Tutto L'interno E come ben potete vedere È super spaziosa Nonostante sia Media È super C'entra Qualsiasi cosa Qui dentro C'entra addirittura Al mio computer portatile Che non uso più Tra le altre cose Però Non l'ho mai usata A parte Quella volta Quella prima volta Semplicemente Perché opto Sempre per altre Toad bag Quando devo uscire Ma Questa borsa Probabilmente Avrà una nuova vita Perché Probabilmente La porterò In Toscana E la regalerò A una mia amica Che io so Che lei Le usa Perché ne ha una Simile Però C'è la nera Gli ho chiesto Se gli potesse piacere Poi Gli manderò Una foto Così E nel caso In cui mi dica Sì ok Gliela porterò E probabilmente Gliela regalerò Ora guardiamo Un po' Anche perché È un peccato Oh raga Non l'ho mai usata Fammi vedere Non c'è nulla No Ma una volta ci siano Ci fossero dei sordi Vabbè E quindi vediamo Vediamo Almeno Spero che Regalandola A questa mia amica Sia sfruttata A dovere Perché Veramente Raga È nuova 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 Altra borsa Comprata E mai usata O comunque Usata una volta Ma mi sono pentito Di averla comprata È una borsa Di Fendi Questa L'ho comprata Al The Mall Fortuna che era scontata Ed è questa qua Molti di voi Quando vi ho fatto Il video unboxing Lo avevano predetto Cristia Questa finirà Ne comprate E mai usati Ma non perché È brutta Ma semplicemente Perché È strana Ci sono dei soldi Meno male Ho dei fazzolli È strana Dicevo Perché appunto È dura Raga Si apre Così Ok E è Spaziosa così L'unica cosa è che Quando io ci metto Un po' di robe O non si chiude O rimane così Quindi la devi mettere Ci devi mettere Proprio il minimo Indispensabile Ma il fatto che sia Dura In questo modo E soprattutto Lunga Mi dà noia Perché Adesso vi faccio vedere Mi dà noia Perché È troppo lunga Lunga Sei Lunga E quindi Con mio grandissimo Dispiacere Purtroppo Mi dispiace Ma Questa borsa Che tra le altre cose Riprende anche i sacchetti Le shopper Di Fendi È stata fatta Apposta Purtroppo È finita Nei comprati E Quasi mai usati Ho comunque Proprio in questo caso Pentito di averla comprata Ma fortuna vuole Che l'ho presa Comunque scontata E l'ho presa All'outlet Quindi Non in negozio Ufficiale Appena uscì Quindi Un minimo Qualcosa Ci ho ripreso Adesso Raghi Ultima borsa E quanto Mi dispiace Ma Se ve l'ho lasciata Per ultima C'è un motivo Andiamo da Louis Vuitton Even when nothing more I made you look I made you look Sì Avete visto bene La Netherful Eccola Qua In tutta La sua Beleza Allora Io Ho comprato Questa borsa Perché è un must have Ok L'ho usata Due volte Una volta Per portarla Addirittura In Toscana Non è vero L'ho usata Quattro volte Una per andare In Toscana Una per andare A Padova Una per andare Da un'altra parte Ma comunque L'ho sempre usata Quando ho viaggiato Perché è super Super capiente Come ben potete vedere Cosa c'ho qua Ah ok Il cosino di Hermes È super super capiente È super super resistente Perché Oh È proprio scientificamente Provato Questa resiste Fino a un peso massimo Di più di 200 chili E soprattutto È Una must have Ok C'è anche La sua mega pochettona Che oddio Potrei usarla Come pochettona Ma ci sono altri soldi Ma io adoro Ma quanti soldi Ma che be Ah grazie Ok Ho tenuto dei soldi Molti soldi Allora Che è successo Questa borsa Perché non la uso Non mi sono pentito Di averla comprata Anzi La amo L'unica cosa è che Non la uso Mai qua Quando sono in città Perché Perché prediligo Più La goyard Perché Non voglio Che prenda l'acqua Per via Della vacchetta Non voglio Che prenda il sole A diritto Proprio Per non rovinarla Non voglio di qui Non voglio di là Alla fine Non la uso mai E nonostante Io non l'abbia mai Usata O comunque Come vi ho detto L'ho usata Quattro volte Ho notato Questa cosa La vacchetta qua Si sta In qualche modo Rovinando O comunque Sta avendo Tutte delle pieghe Sia qua Che qua Vedete E non so Se è una cosa Normale O se è perché Boh Ammettila sempre Nella Sua dustbag Si rovina Non lo so Fatemi sapere voi Se ce l'avete Se anche a voi Vi sta facendo Tutte queste Piegature Perché Se no Non lo so Secondo me sì Perché È il È il pezzo In cui Lo puoi piegare Raga E quindi Probabilmente Sarà Normale Però Fatemelo sapere voi Perché nel caso Io torno al negozio Dico Che è successo Me lo potete cambiare Sto oso Vediamo Ma Vedi È una cosa Che mi da noissima Qui Si vede tantissimissimo Non so come mai Però Detto questo Io Questa Non l'ho Mai usata A parte Quelle volte Ma Nonostante Questo Non me ne sono pentito Ma anzi Siccome è un must have Io La penso così Nelle borse Che sono un must have Che hanno tutti O che comunque Sono sempre ricercati O che comunque Sono un continuativo Perché questa È vent'anni Che esiste Raga E la vendano ancora Il negozio Aumentando addirittura Il prezzo Io L'ho pensata così Se mi dovessi Accorgere Che una borsa Che compro Non l'andosso Non la uso Come dovrei Ma tengo lì In perfette condizioni Nella sua dust bag Perché così Vedete che Anche la vacchetta Evita di scurirsi Perché voi sapete Che più la usate Più il tempo passa Più Le rifiniture In pelle Vacchetta Si scuriscono Che diventano Tipo marroncine O dorate E quindi Dico Boh Magari La lascio lì Qualche anno Non la uso Il suo prezzo Aumenta Il fatto che È vero Che è usata E quindi Non la potrò Mai rivendere Ad un prezzo Maggiorato Ma magari Oh È vero È un second hand Però La vacchetta È perfetta Le condizioni Sono perfette Non è rovinata Assolutissimamente Da nessuna parte Anche perché Non l'ho quasi mai usata Probabilmente Boh Tra le varie perdite Potrebbe essere Un investimento Senza essere Un investimento E quindi Potrebbe Tenere ancora Un po' Il suo valore Contando che Ogni sei mesi Aumentano di prezzo Boh Vediamo Speriamo L'unica cosa Che mi preoccupa È appunto Come vi ho già detto Tutta la piegatura Che ha La vacchetta qui Però Non so se è normale Perché io non l'ho mai Avuta Fatemi sapere voi Chi ha Una Neverfull A casa E che magari La usa Se è normale Che la piegatura Vedete Soprattutto in questa parte Si veda Tantissimo Non lo so Perché se no La valla cambia Raga Siamo sempre in tempo Detto questo Per oggi Finalmente è tutto Questi sono Gli hiter Le cose Che Rimettendo a posto L'armadio Ho trovato E mi sono reso conto Di non averli sfruttati A dovere Di averli comprati Perché Li ho Tantissimo Voluti Però Alla fine Potevo farne a meno Boh No Perché se l'ho comprata C'è sempre un motivo Però Ahimè Non l'ho usati Se volete Adesso però Fatemi sapere Voi qua sotto C'è un commento Tutte le risposte Alle domande Che vi ho fatto E soprattutto Domani Vi do appuntamento Con il contrario Come vi ho già detto E quindi Vi farò vedere Invece Tutte le cose Di lusso Che ho comprato E che sono Super soddisfatto Di aver comprato E che ricomprerei 57.000 volte Perché Li sto sfruttando Gli ho usati A dovere Fatemi sapere Anche se C'è qualcosa Tra queste cose Che Boh Magari Mi potete aiutare Come indossarle Come abbinarle O seppure Siete d'accordo Con me Nel non riuscire A trovare La loro Locazione No Come si dice Per riuscire Ad usarli Iscrivetevi al mio canale Se ancora non l'avete fatto Per oggi è tutto Ci vediamo domani Ciao